Ho sempre creduto che il sistema sanitario nazionale italiano fosse la colonna vertebrale del Paese e un diritto inalienabile per tutti gli individui che ci vivono. Oggi questo diritto è messo in serio pericolo dal fatto che invece, secondo la regione di residenza, la salute non è uguale per tutti. Io sostengo con forza e plaudo alla campagna di cittadinanza attiva per modificare l'articolo 117, il titolo quinto della Costituzione, e fare in modo che la salute sia uguale per tutti.